Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui tireremo fuori questo libro di Franco e Tommaso Cravarezza intitolato Le grandi battaglie della linea gotica. Un libro che è utilissimo, per non dire indispensabile, per capire la guerra sul fronte della linea gotica tra il 44 e il 45 e che soprattutto ci è molto utile per fare un pochino di pulizia di alcune leggende urbane a proposito della cosiddetta battaglia di Natale in Garfagnana, le cosiddette ardenne della Garfagnana, la famosa e famigerata operazione tempesta d'inverno, la Wintergewitter. Quella che, non so se vi ricordate, qualche tempo fa, tempo addietro, qualcuno mi aveva detto Oh ma perché Graziani aveva preparato questa operazione che ebbe un buon successo. Sì, peccato che Graziani non c'entrasse una emerita mazza con la Wintergewitter, dato che si trattava di una operazione praticamente organizzata, organizzata esclusivamente dai tedeschi e che vide una partecipazione decisamente marginale da parte delle truppe della Repubblica Sociale Italiana. Ma vediamo un po' che cosa ci dicono i Cravarezza a proposito di questa operazione. Allora, la battaglia di Natale della Garfagnana si svolse dal 26 al 29 dicembre 1944. Lunedì 25 dicembre 1944 stava ormai volgendo al termine. All'alba di quel Natale, come ormai negli ultimi sei anni, le parole del radiomessaggio al mondo di Papa Pio XII si erano levate accorate sui campi di battaglia sempre più estesi, su cimiteri stracolmi di vittime, su terre devastate e su tristi rovine di città non più animate da campane a festa. Si levavano a ricordare le tragiche lezioni del dolore, a condannare la guerra di aggressione come soluzione delle controversie internazionali, a proporre i valori della democrazia e a richiedere la formazione di un organo comune per il mantenimento della pace. Solo che, come sempre, al Papa nessuno diede retta. La guerra, sorda ad ogni richiamo, continuava. Nelle Ardenne, a Natale 44, Nelle Ardenne languiva l'inaspettata controffensiva tedesca lanciata il 16 dicembre contro il fronte americano. Al di là dei sorprendenti risultati tattici iniziali, non aveva raggiunto l'obiettivo strategico desiderato di capovolgere il rapporto di forze sul fronte occidentale e di riconquistare una parte strategica di territorio permettendo alla Germania di guadagnare tempo e di poter trasferire truppe sul fronte orientale contro i russi. Come ben sapete, gli obiettivi dell'operazione dell'offensiva nelle Ardenne da parte tedesca erano decisamente velleitari e molto poco realizzabili. Anzi, quest'operazione aveva contribuito a logorare le residue forze corazzate efficienti e dato a Peppe Acciaio, a Stalin, l'opportunità di sostenere che l'offensiva anticipate delle sue armate a est aveva salvato gli alleati. In Italia il fronte si andava stabilizzando per l'inverno con le unità più avanzate della quinta armata trincerate a pochi chilometri da Bologna e quelle dell'ottava armata, dopo aver conquistato Faenza a ovest e Ravenna a est, in faticoso attacco e eservimento verso i canali, le paludi e gli allagamenti della bassa ferrarese, si fermarono praticamente il 6 gennaio 1945 sulla linea Irmgard lungo il fiume Senio che rimarrà, con poche varianti, a separare i due schieramenti avversari fino alla successiva primavera inoltrata, diciamo più o meno marzo-aprile. Già da ottobre l'Intelligence e Ultra avevano fornito al comando della quinta armata elementi informativi di una probabile controoffensiva tedesca, della quale si era già fatto cenno durante le fasi finali dell'offensiva del secondo corpo verso Bologna, che nel timore di essere colpito sul fianco aveva reso più prudente la sua avanzata e ha aumentato la protezione sul fianco sinistro. Ricordatevi sempre l'infamia del teatro italiano, le difficoltà di movimento nell'orografia italiana, che che ne dicano certi elementi che secondo me farebbero meglio a stare zitti. l'orografia del territorio italiano, la situazione geografica del territorio italiano con monti, colline, fiumi, canali, fossi, forre e diciamo allora una rete viaria decisamente malmessa, contava e come il fattore orografico che che ne dicesse qualcuno. Porca miseria. Attaccassero la testa al sedere qualche volta. Va bene, va bene, va bene. In realtà il comando tedesco in Italia allo scopo di allentare la pressione alleata su Bologna pensava a un'offensiva nella zona occidentale della linea gotica, considerata settore tranquillo e quindi debolmente presidiato dagli americani. Il piano aveva il forte appoggio della Repubblica Sociale Italiana che sperava di poter impiegare anche una parte delle quattro divisioni italiane addestrate in Germania che erano rientrate da poco in Italia ma che sino ad allora erano state utilizzate soltanto in compiti molto secondari leggi, la difesa costiera in Liguria, la lotta antipartigiana e il presidio della frontiera delle Alpi Occidentali dopo lo sbarco alleato in Provenza, l'operazione Anvil Dragon. All'inizio per questa controffensiva di Natale erano stati elaborati piani ambiziosi che prevedevano l'impiego di almeno quattro divisioni metà tedesche e metà della Repubblica Sociale Italiana con l'obiettivo finale di una profonda penetrazione nel fronte e la riconquista di Lucca e Livorno diventato il porto logistico alleato di più elevata capacità nel nord Italia più o meno come è un verso in Belgio insomma. Ridimensionati drasticamente gli obiettivi a causa sia della situazione operativa in atto sia soprattutto della carenza di truppe, di carri armati e di aerei, la decisione finale sull'offensiva fu presa il 10 dicembre in modo autonomo dal comandante della 14esima armata tedesca il generale Kurt von Tippelkirch che dal 31 ottobre e sino al 22 febbraio 1945 sostituì Lemmelsen che era stato chiamato al posto di Weitinghof al comando della decima armata e il 17 febbraio 1945 fu sostituito Tippelkirch dal generale Traugot Herr. Questa operazione venne indicata sin da subito sin da subito dagli stessi tedeschi come una semplice ricognizione in forze contro posizioni nemiche nella valle del Serchio nella regione della Garfagnana dove c'erano le posizioni avanzate della 92esima divisione del generale Elmond che erano giudicate un obiettivo facile a causa dell'inesperienza dei componenti e comunque avrebbero potuto amplificare gli esiti dell'incursione sul resto del fronte. insomma una semplice tra virgolette ricognizione in forze poco più che un'azione di disturbo nei confronti di una unità poco preparata tutto sommato debole e non addestrata non pronta al combattimento. La 92esima divisione che dai primi di settembre al 6 novembre del 44 era stata rappresentata sul fronte della gotica dal solo 370esimo reggimento di fanteria si era completata dopo quella data con l'arrivo del 371esimo e del 365esimo reggimento e solo dal 19 novembre con il 366esimo che dal maggio precedente era stato impiegato di vigilare sulle installazioni della 15esima Air Force in pratica si trattava poco più di una unità di presidio di una unità di sorveglianza non pronta non addestrata al combattimento tra virgolette vero. Da metà dicembre l'intelligenza americana e anche i partigiani locali avevano registrato sul fronte della 92esima divisione vari movimenti tedeschi interventi di riparazione di strade e di ponti nella valle del Serchio e le dichiarazioni di prigionieri che preannunciavano un'offensiva tedesca oramai prossima che poteva sembrare credibile in contemporanea con quella appena lanciata nelle Ardenne. Come protezione preventiva contro questa iniziativa italo-tedesca che venne valutata imminente la quinta armata il 23 dicembre rinforzò il quarto corpo nel settore della 92esima divisione inviando un reggimento dell'85esima e due brigate dell'ottava armata dell'ottava divisione indiana del 13esimo corpo britannico combattenti veterani e preparati. Inoltre c'era anche un battaglione per la difesa chimica e due battaglioni di carri mentre altri tre battaglioni di fanteria e due reggimenti di artiglieria ricordiamoci era l'artiglieria il vero crack il vero assopigliatutto della US Army ok artiglieria 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 l'attacco tedesco che era stato deciso per la notte tra il 25 e il 26 dicembre per avere il tempo di completare durante la tregua natalizia gli ultimi preparativi era stato affidato al generale Otto Fretter Pico comandante della 148esima divisione fanteria germanica che doveva operare con una task force costruita per l'occasione riunendo reparti della sua divisione della quarta divisione alpina monterosa della repubblica sociale italiana che era stata integrata da un battaglione della terza divisione fanteria di marina san marco l'azione di controffensiva doveva svilupparsi su tre direttrici convergenti lungo la valle del serchio con un fronte di circa 20 chilometri tra somma colonia a nord est e il monte della pania secca che è alto 1700 metri a sud ovest l'attacco fu condotto all'inizio solo sulla prima direttrice a est da parte del complesso di forze più robusto ovvero sia due battaglioni da montagna e uno di armi a tiro teso della 148 divisione della wehrmacht in direzione di somma colonia con l'obiettivo di arrivare a barga e fornaci di barga dove era stato avanzato il comando americano di settore il trecentosettantesimo reggimento americano a somma colonia cercò di resistere ma venne come si suol dire travolto e si ritirò i tedeschi occuparono le frazioni di bebbio e di scarpello i reparti tedeschi realizzarono un profondo sfondamento sul fianco della 92esima della 92esima divisione americana raggiungendo la linea compresa tra i paesi di barga e correglia antelminelli che furono poi conquistati il giorno dopo proseguendo in serata all'occupazione di fornaci di barga sulla seconda direttrice al centro della valle il 27 dicembre il reparto esplorante e due battaglioni alpini della monterosa integrati dal battaglione di fanteria di marina della san marco che nella giornata conseguirono una ridotta progressione sino all'abitato di gallicano diciamo diciamo riuscirono a far arretrare i reparti della 92esima scoperti sul lato destro la 92esima aveva iniziato una veloce e disordinata ritirata lasciando nelle mani del nemico armi munizioni viveri e vestiario a ovest incalzava gli americani anche il 285esimo reggimento della 148esima divisione tedesca che operava sulla terza direttrice verso i paesi di Vergemoli e Calomini che vennero occupati in serata l'azione tedesca venne contrastata con forti azioni di bombardamento e mitragliamento da parte di un gruppo di cacciabombardieri della 22esima Tactical Air Force ma l'attacco proseguì anche nella mattinata del 28 dicembre con i reparti tedeschi della 148esima divisione che avanzarono lungo il serchio occupando Calavorno e con reparti alpini italiani che occuparono Bolognana l'azione italo-tedesca che in soli tre giorni si era spinta all'interno delle linee americane per circa 10 chilometri in linea d'aria andò però esaurendosi soprattutto per mancanza di una efficace copertura aerea da parte della propria aviazione e anche di unità corazzate per inseguire i reparti della 92esima incompleta ritirata e che stavano già passando attraverso le fila dell'ottava divisione indiana che al comando del generale Dudley Russell era giunta in soccorso l'ottava divisione indiana era avanzata occupando le posizioni a nord di Bagni di Lucca pronta ad arrestare la progressione avversaria e a contrattaccare mentre anche la prima divisione corazzata era stata spostata dal secondo corpo verso la zona di Lucca in posizione di riserva di armata ma non fu necessaria alcuna azione perché nella notte tra il 28 e il 29 dicembre i reparti italo-tedeschi abbandonarono le zone appena occupate ritirandosi senza farsi riagganciare dai reparti alleati fin quasi sulla linea del vecchio fronte mantenendo però tedeschi e italiani riuscirono a mantenere alcune posizioni tattiche migliori sulle alture che dal monte della Pania Secca correvano sul ciglio settentrionale delle turrite di Gallicano fino a tutta la serie di alture che dominavano la valle e consentivano una migliore osservazione su tutto il fronte e lo ripeto il fattore geografico e orografico del fronte italiano geografia e orografia del fronte italiano geografia orografia valli forre monti fiumi fiumiciattoli torrenti fango neve freddo in estate freddo in inverno e caldo in estate conta e come il fattore orografico nella campagna d'Italia che vi posso dire contrariamente a quanto si poteva pensare l'operazione offensiva nella valle del Serchio non aveva nessuna connessione con l'offensiva delle Ardenne ripeto la Wintergewitter in Garfagnana non aveva nessuna connessione con l'offensiva delle Ardenne anzi nella sua conclusione il capo di stato maggiore di Hitler ordinò al comandante del gruppo di armate C di non intraprendere operazioni del genere in futuro senza la preventiva approvazione da parte del comando superiore in pratica Tipelkirch aveva fatto di testa sua nonostante le perplessità sulla linea di comando e anche degli alleati per gli intenti reali dell'azione il comandante del quattordicesimo corpo si ritenne molto soddisfatto dei risultati la breve offensiva a suo avviso aveva migliorato il morale dei suoi uomini ok che avevano avuto la soddisfazione di mettere in rotta la 92esima divisione americana e aveva offerto loro un'ulteriore preziosa formazione ed esperienza di combattimento ricordatevi sempre che un grammo di pratica vale sempre più di 50 tonnellate di teoria ecco inoltre così come pianificato l'operazione pur nella sua limitatezza operativa aveva pienamente raggiunto gli obiettivi immediati tedeschi perché aveva obbligato gli angloamericani a spostare numerose unità su un settore secondario e a bloccare ogni altra azione verso Bologna prima della fine dell'inverno a differenza che sul fronte adriatico dove le operazioni si erano concluse ai primi di gennaio con limitate ma favorevoli rettifiche del fronte che non sembrava consentire altri sviluppi per il terreno impraticabile il teatro italiano fu più infame di quello della Birmania e della Nuova Guinea ricordatevelo sempre ok questo terreno impraticabile rendeva impossibile avanzare sull'appennino occidentale e sulla costa tirrina la quinta armata non considerava adeguate le posizioni di fronte al momento raggiunte in previsione delle esigenze di pianificazione futura ovvero sia le posizioni della 92esima erano già considerate poco poco difendibili oltre al pattugliamento aggressivo da entrambi gli schieramenti che continuò per tutto l'inverno su tutto il fronte risultano come dire risulta indicativo il fatto che in quelle zone non accorde praticamente più niente ci furono alcune altre schermaglie ci furono alcune altre piccole battaglie ma oggettivamente la wintergevitter la tempesta d'inverno la famosa famigerata gloriosa offensiva tedesca italo-tedesca sul fronte della Garfagnana fu una semplice ricognizione in forze una semplicissima ricognizione in forze effettuata dai difensori in un settore dove le truppe attaccanti erano deboli e impreparate tutto qua Graziani non c'entra nulla il ruolo svolto dalle truppe italiane della Repubblica sociale fu decisamente marginale perché i tedeschi se ne fidavano talmente tanto che in pratica le misero a sandwich reparti tedeschi davanti in attacco reparti tedeschi dietro e le truppe della RSI nel mezzo perché non se ne fidavano perché i tedeschi avevano paura che la Repubblica che le gloriose divisioni della Repubblica sociale si squagliassero come neve al sole avevano paura che potessero disertare avevano paura che potessero fuggire per questo se le misero in mezzo costringendole ad avanzare con loro tutto qua questa è tutto quello che è la famosa clamorosa la celebrata la celebratissima battaglia della Garfagnana la celebratissima battaglia di Natale l'Arcinota vi ricordate il tizio che aveva il nonno nella Monterosa e che mi diceva tu devi parlare della gloriosa offensiva Winter Gewitter organizzata da Graziani ma dove Graziani con questa operazione non c'entrava assolutamente nulla diede soltanto i reparti basta fu praticamente un'iniziativa personale del generale comandante il settore per una ricognizione in forze gli stessi tedeschi la definiscono ricognizione in forze però no 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 sempre a menarmi il torrone perché tu devi parlare della gloria ottenuta dalle truppe della Repubblica Sociale italiana nell'operazione Winter Gewitter 25 26 27 28 29 dicembre 5 giorni un attacco che ha conquistato che è penetrato per 10 chilometri nelle linee di una divisione americana debole inesperta e disorganizzata e poi dopo sono tornati indietro e basta no sempre a tavanarmi il tavanabile con la storia che io devo parlare delle gloriosi operazioni delle truppe della Repubblica Sociale che tra l'altro a quanto sembra clavarezza non lo dicono però insomma a quanto ho letto in altri libri i reparti italiani impegnati i reparti della Repubblica Sociale impegnati nella Winter Gewitter ebbero molte 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 diserzioni chissà come mai ma che vi devo dire signori cosa vi devo dire insomma cari signori Franco e Tommaso Cravarezza che sono uno è stato generale di Franco Cravarezza è stato generale di corpo d'armata e ha comandato insomma ha avuto una sfidza di incarichi che è figliolo scansati e mentre come dire il figlio Tommaso Cravarezza è anche lui ufficiale del nostro esercito e si tratta di due grandi esperti in materia se i principali esperti in materia di linea gotica in Italia ovvero sia questi due signori Franco e Tommaso Cravarezza in questo libro liquidano in una pagina e mezza la gloriosa operazione Winter Gewitter bisognerà pure farsi una domanda sull'importanza di questa battaglia è stato un successo tattico tedesco sì indubbiamente hanno partecipato i reparti italiani sì come si sono comportati ma ha avuto una minima influenza sull'andamento della guerra poco e niente diciamo che hanno semplicemente allentato la pressione alleata su Bologna e che hanno come dire costretto alla riorganizzazione una divisione poco preparata e inesperta come la 92esima Baffalo ma tutto qua non è che ci sia tutta questa soverchia importanza tutta la gloria conquistata dalle gloriose truppe della Repubblica Sociale Italiana non c'è non c'è 25 26 27 28 29 dicembre 5 giorni 5 giorni sono durate 5 giorni le cosiddette Ardenning Arfagnana niente di più e dopo 5 giorni le unità italo-tedesche erano già ritornate praticamente sulle posizioni di partenza conquistando mantenendo alcuni punti migliori rispetto alla vecchia linea del fronte mantenendo una linea difensiva migliore che gli consentì di reggere meglio la pressione alleata anche se nel durissimo inverno 44-45 sul settore della linea gotica tirrenica e anche adriatica si fece poco o nulla qualche schermaglia di artiglieria qualche colpo di mortaio incursioni pattugliamenti offensivi ma assolutamente niente di che così come oggettivamente niente di che è l'operazione Winter-Gewitter la battaglia di Natale in Garfagnana ok quindi cari signori se lo trovate vi consiglio di recuperare questo la le grandi battaglie della linea gotica di Franco e Tommaso Cravarezza libro utilissimo per capire come mai gli eserciti alleati si fermarono sulla linea gotica tra l'estate e l'inverno tra l'estate 44 e il tardo inverno 1945 e soprattutto potrete capire l'importanza del fattore orografico l'importanza della geografia e della ripeto orografia del teatro bellico italiano durante la campagna del 43-45 contrariamente a quello che dice qualcuno che diciamoci la verità non ha idea di dove stia il senso del ridicolo quindi cari signori adesso tocca a voi come sempre qua sotto ci sono i commenti commentate 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 non abbiate peli sulla lingua non vi mangio mica anche se come si suol dire sto preparando lo stracotto di ceceno alla ferrarese vabbè ragazzi scusa dicevo non vi mangio mica come sempre vi lascio la massima libertà di opinione e di pensiero e di parola su questo canale non tradite la mia fiducia mi fido di voi quindi dateci dentro qua sotto dateci dentro dateci dentro commentate e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao